Brunico, Valpusteria, liceo scientifico linguistico in lingua tedesca. Usare di meno, usare di nuovo, rimettere in ciclo. Questo è il motto del progetto Reduce, un progetto a respiro internazionale portato in alto adige dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni al tema della sostenibilità. Sostenibilità non solo nel settore ambientale ma anche in quello alimentare ed economico in generale. Una serie di incontri organizzati nelle varie scuole altoatesine come ad esempio Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. Supporti video, confronti con esperti, possibilità di esporre le proprie idee ed opinioni. Questo il segreto del successo di Reduce. Reduce è un progetto che parla di risorse naturali, uso, consumo, risparmio, sostenibilità. È importante perché porta queste informazioni, soprattutto ai giovani, agli studenti, informazioni relative alle risorse naturali nel mondo, a quanto sono scarse, a quanto è importante poterle preservare, conservare, risparmiare, anche attraverso un consumo consapevole il più possibile sostenibile. Un progetto come Reduce mette in primo piano le conseguenze delle abitudini umane sull'ambiente e sulla società indica le possibili soluzioni per raggiungere uno stile di vita più sostenibile. I ragazzi non solo dimostrano interesse, ma vogliono contribuire concretamente ad indicare la strada da seguire. I ragazzi durante le presentazioni che portiamo nelle scuole, innanzitutto sono stupiti di quello che ascoltano, perché non gli capita così spesso di potersi trovare di fronte a una critica, a un sistema consumista ai quali sono assolutamente abituati, abituati e acriticamente. A quel punto chiedono, oltre a fare quello che già fanno, perché sono stati educati così, perché il sistema del riciclo già funziona in molte parti d'Italia, quindi oltre a fare questo come possono contribuire per aumentare la possibilità di invertire questa tendenza negativa di uso e consumo di risorse naturali del pianeta attraverso le loro azioni quotidiane, per cui può essere risparmiare energia facendo attenzione agli stand-by dei computer, così come acquistare prodotti biologici o alimenti che siano di produzione locale, ultimo chilometro e non di importazione fuori stagione, via dicendo, tante cose, come poter intervenire per sviluppare domanda di prodotti riciclati, in modo tale che possano poi acquistarli anche a un prezzo conveniente. Gli esperti hanno ricordato che per poter gestire la vita di tutti i giorni dipendiamo dalle materie prime e dall'energia. La multivisione del progetto Reduce sensibilizza i giovani ad una gestione consapevole delle risorse naturali, riportando esempi di vita quotidiana. Da dove viene il cotone delle magliette e in quali condizioni viene prodotta una maglietta? Da dove viene il litio contenuto nel cellulare di ognuno di noi? Dove andrà a finire quando non useremo più questo apparecchio? Tutte le informazioni sono sul sito internet all'indirizzo www.reduce.org. Und ich habe gedacht, sarebbe già un rischio per il nostro Verkehrsbosanismo.